Mi piacerebbe se ti leggessi una storia della buonanotte, quella che ti legga Ciao, ciao tesoro come stai? Non riesci a dormire? Non riesci, non riesci a dormire? Ok, ti piacerebbe se ti leggessi una storia della buonanotte? Che ne dici? Ok, ok, ok. Allora, ti faccio scegliere un libro fra tutti i libricini carini che sai che io adoro, ne ho santissimi. Ne ho quattro qui con me. Prima di iniziare però, ricorda di mettere un bel mi piace e ti lasciano un commentino. Grazie. Di questi librottini ho Peter Pan, che so che è una storia che ti piace tanto? Gli aristocatti, che però credo di averti già letto se non mi sbaglio. E... Tarzan... Tarzan... Tarzan, Tarzan, Tarzan... Poi di un'altra collana, ma sono sempre libri di storie, ho la carica dei 101 La carta dei 101 Con un banco di gucci Allora, quelle poi che ti legga? Lo sapevo che avresti scelto quello Ti conosco Va bene, stasera leggiamo Peter Pan E andiamo sull'isola che non c'è Siamo a Londra E a Londra è sera, tardi E a casa Darling i piccoli Gianni e Michele stanno giocando con le loro spade di legno Vingono di essere Peter Pan e Capitanoncino Che carini Papà Darling è arrabbiato perché i bambini hanno disegnato una mappa Sulla sua camicia che devo usare per uscire Secondo lui è colpa di Wendy, la figlia maggiore Perché racconta sempre ai fratellini la favola di Peter Pan Ma lui esiste davvero E ha appena chiesto a Wendy di ricucirgli l'ombra E per ringraziarla Peter invita lei sui fratellini Sull'isola che non c'è Prima però spruzza Li spruzza con la polvere magica E la fatina Trigli Così Potranno volare Proprio come lui Guarda che bello Qui c'è Peter Qui c'è Trigli Non troppo contenta E la polvere magica E la polvere magica Finisce 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 Su Giovanni Michele e Wendy Si chiamano così no? Gianni Su Gianni, Michele e Wendy Ed ecco l'isola Guardate che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia Che meraviglia E Peter Pan Indica La nave Indica la nave di Capitano Uncino Il suo peggior nemico E all'improvviso Dal vascello pirata Parte Un colpo di cannone Questo è il colpo di cannone I ragazzi Per fortuna Lo evitano Ma l'atterraggio sull'isola Non è certo facile E mentre Peter Pan Prende Wendy Tra le braccia Gianni e Michele Cadono Fra i gespugli Qui si vede Peter Pan Che prende in brazzo Wendy E i poveri fratellini Che cadono un po' in mezzo ai gespugli Con l'ombrella ancora Dalla piovosa Londra Per fortuna Comunque stanno tutti bene E possono fare conoscenza Con i bimbi sperduti Gli amici di Peter Pan Che vivono con lui Sull'isola che non c'è Questi sono tutti bimbi 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 sperduti Gianni e Michele Si uniscono subito al gruppo E decidono di partire Per un'esplorazione Delizia Intanto Peter e Wendy Vanno alla laguna delle sirene Ma presto Scoprono Che Capitanoncino Ha catturato Giglio Tigrato La figlia Del capo indiano Toro in piedi Ditemi dove si nasconde Peter Pan Oltre nel pirata alla ragazza Qui si vedono Peter e Wendy Che Origliano Da sopra uno scoglio Da sopra uno scoglio E giù c'è Capitanoncino Che cerca di obbligare La ragazza di Little Baby Peter Pan Peter interviene subito con un trucco E riesce a confondere Moncino E a portare via Giglio Tigrato E quando torri in piedi Vede che la figlia salva Nomina Peter Pan Indiano Onorario Di Peter Pan Che riesce a salvare Giglio Tigrato E Peter Pan Che l'ha nominato Ma Uncino riesce lo stesso a scoprire il rifugio di Peter Pan E dei bimbi sperduti E quella sera Manda i suoi uomini A catturarli Oh no Guarda tutti gli uomini di Capitanoncino Che catturano i bimbi sperduti Tutti qui In questa facca Solo Peter non viene preso Per lui Uncino Ha un regalo speciale Un grosso pacco Peter Pan sta per aprire il suo pacchetto Quando Trilly corre in suo aiuto La fatina strappa Dalle mani del suo amico E la porta lontano 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 Che cattivo Capitanoncino Veramente Guarda Trilly che eroina Che porta il pacco Via 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 Molto buffo il cappello di Capitanoncino Un toncino Deline anche i baffi Ma qui cosa succede? Wendy mi sa che è in pericolo Perchè intanto Un toncino sulla sua nave Vuole che tutti i bambini Diventino pirati Quindi si rifiuta E per punizione Deve saltare in mare Da una passerella Ma ecco Che Peter Pan la salva Appena appena in tempo E qui c'è il solito Trilly Qui abbiamo il grande combattimento Capitanoncino e Peter Pan cominciano a combattere Ma il ragazzo è molto più agile Infatti durante la battaglia Capitanoncino perde l'equilibrio E cade 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 Per forza Peter Pan vola Non è facile batterlo Quindi Peter Pan avendo battuto il capitano Diventa il capitano della nave I bimbi sperduti salutano il nuovo comandante Del vascello pirata A Londra Esclama Peter E grazie alla polvere magica di Trilly La nave si alza in volo Nel cielo stellato Per i piccoli Trilly Che avranno di tornare a casa Ma non potranno mai dimenticare La loro fantastica Avventura Qui c'è Peter Capitano Con i vestiti di Capitanoncino E anche il cappello Qui tutti i bimbi sperduti Che fanno parte della giurma E qui la nave che diventa oro Grazie alla polvere fatata di Trilly E vola 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 Dall'isola sperduta Di Nuova Londra Lo guardiamo un'altra volta Aspetta Per i piccoli E in un'altra volta Vettere Per i piccoli E in un'altra volta A chi non la passa Dall'isola sperduta Grogli Grazie. 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 Prima di augurarti la buonanotte vorrei farti scegliere il prossimo libro che non abbiamo ancora letto, c'è appunto Tarzan. E la carica dei 101. Dimmi quale vorresti ascoltare la prossima volta, ok? Mi raccomando, così potrai scegliere attivamente cosa ascoltare. Dimmi anche se vorresti magari ascoltare un'altra storia, magari riesco a trovare il libricino da qualche parte. Questi libricini li trovo al mercatino dell'usato, ma perché mi piacciono proprio vintage. Guarda, te ne faccio vedere un altro che è una vera chicca. Quale volendo si trovano anche online. Quindi se hai una storia in particolare che mi vuoi chiedere, magari la cerco. Ti faccio vedere questo prima di darti la buonanotte. Questa è il libricino più vintage che ho, ha più o meno la mia età. A due anni in meno, è del 95. Infatti è stato anche scuzzato. Ed è la storia di bambi, 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 bambi. E rispetto agli altri libri, questo si vede che è proprio vecchiotto perché... Vedi? Sembrano quasi colorati col pennarello. Guarda la differenza nelle immagini. È su carta normale. Potrei averlo colorato io potenzialmente. E' veramente molto particolare. E' veramente molto particolare. e io penso proprio. Penso proprio Penso proprio ma penso proprio 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 se aggiunga l'ora di abbassare le luci e augurarti augurarti augurare a te a te a te una buona buona buonanotte a te a te sogni d'oro good night sweet dreams buenas noches buenas noches dulces sueños dulces sueños dulces sueños dulces sueños dulces sueños buon nuit buon nuit vede joye 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 good night le gano buon nuit i miei piccoli pasticcini un bacione che rispero